Cristian Iannuzzi. Piras ha votato. Sì, mi pare che ci siamo. La votazione è chiusa. Favorevoli 112, contrari 318, la Camera respinge. Siamo al 17, Caparini, qui è accolto con riformulazione. Deputato Caparini, va bene. Poi 18, questo è una niente, l'avevamo superato. 19, questo è accolto, deputato Caparini, andiamo avanti. 20, Caparini, anche qui c'è una riformulazione, l'accogliesi, andiamo avanti. 21, c'è una riformulazione. Prego, deputato Caparini. Sì, grazie. No, qua invece vorrei votare perché sono assolutamente convinto che la Camera, contrariamente a quello che altri colleghi hanno affermato in questa Aula, deve svolgere la sua funzione legislativa, punto e basta. Non deve essere sala per convegni. Ci sono tantissime sale per convegni a Roma, tantissime, molto belle, attrezzate, economiche. Non capisco perché noi si debba supplire a una carenza che evidentemente a Roma non c'è, come centri espositivi, per mostre e quant'altro. Noi siamo alla Camera dei Deputati, la nostra funzione è legislativa e soprattutto io invito i colleghi che invece sostengono ancora che oggi noi si debba svolgere funzioni.